insomma volevamo concederci qualche attimo in più ad aperto con la mini minu che qua che dorme nel suo guscio di cashmere è una pezza che recuperai e che spartiamo un po quando è pulita la mettiamo noi umane e poi piace a lei ed ora ce la vesto dentro come un guscio perché mi segue mi segue se sta se sa che io rimango stanziale in un ambiente e lei non ci può stare dalla sua cuccia allora di questa coperta ne parleremo quindi prossimamente all'aperto alla prima giornata utile bella bella soleggiata asciutta dove magari mi avranno anche tagliato l'erba nei prati così la possiamo stendere bene la studieremo particolare per particolare e così potrò mettere più risalto con degli esempi che insomma saranno più 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 che sarà più facile comprendere ecco se 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 la coperta rimane stesa in piano non accartocciata la bambolina sulla dormeuse come spesso è stata e poi vabbè la riporrò nella sua sacchetta e mi ha preso l'acqua mentre chiacchieravo fuori quindi adesso l'ho fatta asciugare un po in casa e poi la ristenderò un pochetto quindi parleremo poi delle caratteristiche dei filati di come loro ci possono venire incontro alle nostre necessità o stimolarci delle delle evoluzioni creative ecco vedete le foglie i fiori i fiori li ha presi da un manuale da una collezione fil d'art da un mini manuale di accessori se lo trovo ve lo fa vedere e poi beato kit mohair beato beata viscosa spalmata beato mohair e lana anche del cotone non me ne era accorta ho usato anche del cotone poi devo ripescarla quella figura quel fiore dove ho usato anche un ciccinino di cotone vi parlerò meglio al meglio spero del dei vari filati di come loro possono veramente anche nell'esecuzione di forme proprio quasi infantili invece evocare con poesia una realtà che vogliamo ricordare un attimo che vogliamo ricordare un ambiente un luogo una stagione quindi vado a pucciare due fragole nello zucchero quanto mi piace prepararmi la tazzina lavare le fragole e pucciarla nello zucchero e niam 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 ripucciarla e niam ripucciarla e niam ma poi le devo tenere perché devo farcire le torte devo andare a fare un'altra torta devo fare tante cose devo cucire cucire fare 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 brigare lettera testamento buona domenica state divertendo vi state divertendo vi state divertendo e lo so maria vittoria è uggioso frescoloso stamattina siamo uscite volevo uscire con una camicia di lana che non sembra di lana e una maglietta dalle maniche lunghe sotto poi mi sono messa lo scialle di lana quello che adesso ormai ho annodato in un modo che mi piace tanto mi fa una marinaretta russa poi se ciao cori mi sono presa la mia sciarpona sciallona tricò in lana e moer tinto botanicamente quel mio gioco di onde dedicata a favignana fitte fitte messa a posto sembrava una giacca un bello spillone di sicurezza e vai e mi sarei messa anche il cappello ma avevo i capelli buffi stamattina mi sono venuti carucci e non me li sono spiaccicati perché devo dire non ho preso l'ombrello che ho osato ma ho fatto bene perché poi una mia ex di rimpettaia mi ha beccato in piazza mentre sono andata a salutare le ragazze alla bancarella dei gadget e me ne sono regalata uno mi sono regalata un segnalibro con la riproduzione insomma riprodotto che ha riprodotto vabbè domani ve lo dico forse eh o santo cielo vabbè insomma qua le ragazze che poi sono grandi poco meno di me hanno avuto una bella idea insomma si sono proposte per dipingere gli sportelli d'acciaio di metallo diciamo così non lo so se sono d'acciaio ferro sapete dei contatori vari tipo quelli dell'enel no ma quelli dell'acqua del gas vari cancelli e soggetti vari devo dire non è che c'è un tema non si è sviluppato un tema e quindi si possono trovare locomotive che fuggono campi coltivati galline galletti gatti c'è una veduta marina poi ve la riprenderò in un cancelletto qua vicino e poi ci sono le poesie di trilussa e poi ci sono scorci anche del paese io mi sono regalata uno scorcio del mio borghetto che ha come simbolo il cesternone della dell'acquedotto e il nostro fungone ma che carina abbiamo siamo trovati lì ma abbiamo fatto una cosa che facevamo appena conosciuta e quindi andavamo a fare giretti in macchina dai lei metteva la mamma in macchina per distrarla un po una mamma che patisce un po di demenza senile molto anziana quasi centenaria le facevamo fare giretti per vedere se si ricordava certi luoghi no e non si chiacchierava ma sorrideva una vecchietta dolcissima veramente e allora fa lo perché poi non ci chiamavamo lo abbiamo fatto un giretto per la campagna siamo andati verso sipicciano abbiamo passato la ferrovia all'attezza della stazioncina della tenuta borghese e io ho detto anch'io voglio avere la mia stazioncina sarebbe così carina stazioncina dei simoni ma io voglio lorenza dei simoni nome con noi e poi abbiamo fatto tante chiacchiere poi si sono tornate indietro mi ha portata la hop perché stavo andando a fare la spesa a cercare le fragole che poi ho trovato anche altre cose e ho preso le fragole belle e buone e e poi mi hanno dato lontana dentro trovato un'altra signora una signora con la quale ogni tanto vado a fare delle camminate ma quant'è che non ti vedo come stai qui è un po' lì è un po' la lavora in toscana anche se vive al limite sul confine laziale però insomma un sacco di beghe poi ognuno qua questa cosa l'ha presa a modo proprio che rock e film che non finisce più a me i film lunghi mi annoiano dopo un po' questo è troppo lungo infatti avevo registrato bucaletto da un'ora e dieci minuti ho detto ma non ci penso proprio povera ce l'ho cancellato via 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 lo rifaremo bene allora di questa coperta delle tecniche delle caratteristiche dei filati ne parleremo all'aperto visto che questo racconta di un pezzo di bosco lo racconteremo all'aperto così parleremo ancora di filati fantasia di che cosa sono i filati fantasia delle varie fogge dei filati fantasia qui ne abbiamo uno particolare made in italy lana 100 per cento lana e ci sono anche delle inclusioni in mohair filato naturale dove io invece ho aggiunto della viscosa spalmata del kid mohair dove mi serviva ho visto anche un pezzo di cotone da qualche parte poi lo cercheremo e poi nelle foglie ho usato o solo plotulopi o plotulopi e letlopi lo so che non si pronuncia così pazienza va bene è così un po come i ferretti no gli aia li ho sentiti li ho sentiti nominare in mille modi quale sarà quella giusta a chi dare retta che ne so se scrive io poi c'ho la sorella che si chiama Ilaria e un fratello che si chiama Gabriele e sono due gemelli tra di loro e loro avevano iniziato a chiamarsi Lele e Ia anzi no era la Laura la Laura perché loro sono del 73 mia sorella Laura del 71 quindi lei chiamava Gabriele e Ilaria Iaia e Lele e quindi gli Ia Iaia io chiamo Ia Iaia e Lele direttamente così e i Ciao Gu li sento dire Ciao Gu Ciao Gu e quindi batte la pesca insomma non lo so come si pronuncia lo dico come si scrive e a parte che potremmo anche chiedere l'aiuto vocale di Google ma mi sta antipatico Google ma mi sta antipatico Google quando so che vengono alterati i dati veri c'è questa cessura che dovrebbe svegliare come mai questa cessura perché non sveglia quelli che obbediscono ciecamente perché bisogna obbedire è importante però c'è la cessura e la cessura dovrebbe dire a 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 campanello d'allarme e campanello d'allarme a a a a come mai perché c'è bisogno di e e e e e e invece e va bene questo questo questa ipnosi di massa va bene c'è fuggi fuggi non mi sento parlare così le classici scappano perché paura va bene allora vi racconterò delle foglie vi racconterò del perché così e anche delle lopi come erano qualche anno fa perché sono cambiate